Semifinale del Festival di Castrocaro a Limena nel Padovano. L'evento inizierà sabato sera alle 20.30 sul parco antistante La Barchessa della Comune. Come amministrazione comunale siamo felicissimi di avere un evento come la prima tappa di semifinale del Festival di Castrocaro qui a Limena. La zona industriale di Limena non sforna solo prodotti manifatturieri ma anche queste bellissime voci e personalità che avete appena visto grazie a Cristiana Lirussi della Daigo Music School. Che voglio ringraziare a nome mio, dell'amministrazione ma soprattutto dei cittadini limenesi che avranno la possibilità di partecipare a un evento che direi unico, uno sfondo meraviglioso come la Barchessa Seicentesca, sede del Comune di Limena dove stiamo allestendo proprio in questi istanti un palco con l'aiuto di tanti volontari che si sono prestati perché questo evento è stato organizzato anche abbastanza all'ultimo momento. Ma come le cose che avvengono di solito all'improvviso siamo sicuri ci sarà un grande risultato. La gloriosa manifestazione canora dalla quale sono uscite molte delle voci più famose e amate della musica italiana approda a Limena con la semifinale. Due le cantanti nostre compaesane che partecipano alla Kermesse che fanno parte della Daigo Music School di Limena. Sono Alice Pauro, ho 23 anni, vengo da Vigo d'Arzeri in provincia di Padova e sono emozionatissima per questo evento che è la prima tappa della semifinale del Festival di Castro Caro. La tensione è mille perché ci sfideremo con cantanti bravissimi e il livello è molto alto e quindi niente, speriamo nel meglio e poi come andrà andrà? Noi ce la mettiamo tutta, ce la metto tutta e speriamo di far bene. Sono Anna Lisa Paolino, ho 14 anni, abito a Cadoneghe in provincia di Padova e sono molto agitata perché sabato 9 si terrà un importante semifinale, la tappa di Castro Caro, anzi la prima, dove mi esibirò con, per dire di no, di Alexia e una versione riarrangiata di Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Speriamo in meglio, non vedo l'ora che arrivi quel giorno e siamo tutte unite da un'unica passione, quindi viva la musica e speriamo bene. Soddisfazione è stata espressa dall'insegnante di musica, una grande professionista che le ha seguite passo dopo passo. Io auguro ai nostri allievi un grande in bocca al lupo e anche se dovesse essere che non vadano in finale, per noi sono sempre i migliori. Grazie. 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 Grazie.